Ecco una nuova, importantissima decisione che irrompe nel delicato tema delle limitazioni alla libertà di circolazione per le misure Covid. Ancora una sentenza secondo cui mentire alla polizia e fornire una falsa autocertificazione non è reato. E questo perché, detto in soldoni, la legge consente di dire una bugia se l'alternativa è autodenunciarsi. Non ci si può accusare davanti alle autorità. Questa volta a dirlo è il giudice per l'udienza preliminare di Milano e vi assicuro che la decisione squarcia un velo profondo in tutte le precedenti diatribe a cui abbiamo assistito sinora sulla legittimità dei DPCM e sulle restrizioni domiciliari. Se ne volete sapere di più su quest'ulteriore puntata dell'ormai infinita telenovelas Covid-19 non dovete fare altro che iscrivervi subito al canale, azionare la campanella degli avvisi e attendere la sigla. Fate poi molta attenzione a ciò che vi dirò subito dopo la sigla. Piccolo spazio autopromozionale, prendete nota di questa data. Primo aprile 2021. Primo aprile 2021, ore 18 e 30. Ma cosa che succede? È la prima puntata della nuova trasmissione in live streaming su Twitch di Questa è la legge. E non potete mancare proprio voi che siete iscritti al mio canale di YouTube. Non potete mancare proprio voi che amate la legge. Non potete mancare proprio voi che tutti i giorni dite insieme a me questa è la legge. Quindi mi raccomando, primo aprile 2021, ore 18 e 30. Live streaming on Twitch. Come vi dicevo, rischia di aver subito il definitivo colpo di grazia all'autocertificazione richiesta dalla normativa anti-Covid per giustificare gli spostamenti nelle zone di lockdown. Dopo il Tribunale di Reggio Emilia che l'11 marzo scorso assolse una coppia dall'accusa di falso ideologico per aver mentito su quanto scritto nell'autocertificazione, trovate il link se cliccate qui in alto sul video, ora si aggiunge anche il gruppo di Milano. Il giudice Lombardo ha ritenuto innocente un ragazzo che aveva detto il falso alle forze dell'ordine che gli chiedevano ragione in merito al suo spostamento. Secondo il nuovo provvedimento, non esiste formalmente alcuna norma giuridica che obblighi un cittadino a riportare la verità sull'autocertificazione prodotta durante l'emergenza Covid. Non solo, per il giudice è incostituzionale punire penalmente le false dichiarazioni di chi ha scelto legittimamente di mentire per non incorrere in ulteriori sanzioni. Quindi chi si trova dinanzi all'alternativa tra il mentire e subire un processo penale, oppure il dire la verità e subire comunque delle sanzioni amministrative o penali, può optare per la bugia senza che questa possa costituire un reato. Diversamente si dovrebbe ritenere che comunque faccia il cittadino sarebbe ugualmente punibile e siccome esiste un principio nel nostro ordinamento per cui ciascuno non è tenuto ad autodenunciarsi, ecco che allora, secondo il gruppo di Milano, in questo caso non si può punire chi rilascia un'autocertificazione falsa. In pratica, al giorno d'oggi rischia di più chi dice una bugia ai genitori che non alla polizia. Incredibile, vero? Ora vi racconto la storia. La primavera scorsa, durante il primo lockdown, un ragazzo veniva fermato alla stazione di Cadorna, nel pieno centro di Milano, per un controllo. Agli agenti aveva dichiarato di lavorare in un negozio e che in quel momento stava proprio rientrando a casa. Dopo dieci giorni, però, uno dei poliziotti, per verificare se il giovane avesse detto la verità o meno aveva inviato un'email al suo datore di lavoro, il quale, pur confermando il fatto che il ragazzo era un suo dipendente, aveva però smentito la dichiarazione del giovane, affermando che quel giorno non era di turno. Da qui la denuncia per farso ideologico in atto pubblico ed il processo penale corrito abbreviato. Il giudizio, però, si è concluso con l'assoluzione. Come vi ho detto, per il giudice non c'è alcun obbligo di dire la verità sull'autocertificazione anti-covid, quindi nessuna sanzione. Il magistrato, infatti, ha spiegato che il fatto non sussiste perché non c'è alcun obbligo giuridico per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate di dire la verità sui fatti oggetto dell'autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è possibile trovare nel nostro sistema una norma giuridica di questo tipo. Quindi aggiunge il giudice che mentire è illecito. Nella sentenza si legge che chi viene fermato per un controllo del genere si ritrova in una difficile posizione. Se dice la verità è consapevole di poter essere sottoposto a indagini per il reato di inosservanza ai provvedimenti dell'autorità, cioè per essere uscito di casa o dal proprio comune senza giustificato motivo. Se invece dice una bugia rischia il reato di falso ideologico in atto pubblico. Per il giudice questa alternativa di scelta tra il vero e il falso contrasta con il diritto di difesa della persona. Altrimenti si dovrebbe sostenere che il privato sia obbligato a dire il vero nell'autocertificazione pur sapendo che ciò potrebbe comportare la sua condanna per la violazione alle restrizioni covid. Con conseguente multa. Ciliegina sulla torta. Il fatto che il controllo successivo fatto dalla polizia sulla veridicità dell'autocertificazione sia eventuale e non necessario previsto dalla legge, secondo il GUP rende il fatto non punibile. Bene amici è tutto. Un'ultima considerazione. In questi giorni ho letto diversi commenti ai miei video sulle ultime sentenze che dichiaravano illegittimi i vari DPCM. C'è chi dice tanto io me ne frego ed esco comunque e di questo non ci meravigliamo affatto visto che se così non fosse non saremmo quelli che siamo e gli avvocati non avrebbero tanto pane quotidiano. E infine c'è anche chi dice io anche se i giudici dicono che le restrizioni sono illegittime le rispetto ugualmente perché è una questione di buonsenso a prescindere dalla legge. E poi qualcuno chiede quale sia la mia posizione. Beh per quanto mi riguarda una posizione è quella dell'avvocato un'altra quella dell'uomo e chiaramente quando si finisce per essere troppo tecnici si finisce anche per essere poco uomini. Questa è la legge. Ciao amici se vi interessa sapere cosa dice la legge come va interpretata cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti iscrivetevi al mio canale questa è la vera legge.